E benvenuti amici di RealPlayers, ancora una volta qui tizio di GameLegends dalla FK Store di Roma per presentarvi le fantastiche Corsair Void Wireless RGB 7.1 Ed eccole qua le fantastiche Void 7.1, allora ve le mostro più da vicino è un prodotto che mi riguarda particolarmente perché le ho scelte anch'io per utilizzarle giorno per giorno dal PC, dunque possiamo dirvi che parliamo di struttura delle cuffie le cuffie come le vedete sono in morbido tessuto sui padiglioni e in altro nell'arco per la testa vado a indossarle, ecco fatto, una volta che indossate avranno questa forma l'arco è particolare perché questa forma consente di avere un'ergonomia fantastica in testa la cuffia stessa è qui sopra in plastica e qui invece al lato c'è un ottimo supporto in metallo da questa parte troviamo i tasti per l'accensione, per lo spegnimento rapido on the fly del microfono e la regolazione del volume in basso con la porta USB per caricare le batterie delle cuffie wireless il microfono è posto in questa posizione e una volta che lo mettiamo in giro possiamo regolare come più ci piace, è molto flessibile, è molto comodo, supporta tantissimi stress ed ha due led posti in questa posizione, non li vedete perché sono spenti ma sono qui al lato del supporto microfono che lampeggeranno in caso di malfunzionamento, di scaricamento della batteria insomma vi daranno le informazioni durante il gaming per farle funzionare avete nella scatola questa fantastica pennetta per l'antenna che è molto comoda, possiamo dire che alloggiando la pennetta su una playstation 4 le cuffie funzionano, non sono adatte per la console in quanto si sentono molto basse e il volume non si può regolare dalla rotellina in basso dovremmo usare il pad playstation 4, è una funzione in più però da pc sono veramente uno spettacolo da un punto di vista tecnico le cuffie consentono di regolare i colori del logo corsair e del microfono quando lampeggia grazie al sistema RGB questa regolazione dei colori è utilizzata dal software corsair scaricabile dal sito ufficiale da un punto di vista ancora più tecnico all'interno delle cuffie parliamo di padiglioni da 50 mm vi ricordo che l'essere umano sente da 20 Hz a 20 kHz e così le cuffie fanno, ci permettono di sentire questo tipo di suono e l'impedenza è di 32 kHz potete trovare le cuffie corsair void wireless rgb 7.1 qui presso l'fk store di roma sul sito afkstore.it e la pressione economica con il filo denominata voice around se vi siete persi la recensione la trovate sempre sul canale siamo in chiusura, se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale mettete un like e commentate un saluto a rizio di game legends dell'fk store di roma grazie a tutti Grazie a tutti.